Con sei sconfitte consecutive, un solo gol segnato, peggior attacco del campionato con l'Ellas Verona, e 16 subiti, che vuol dire peggior difesa, il neopromosso Benevento ha stabilito uno dei peggiori inizi di stagione per una squadra di Serie A, nonché uno dei peggiori esordi mai avvenuti nella massima serie del campionato italiano. Negli altri maggiori campionati d'Europa ci sono soltanto due squadre che stanno ancora aspettando una vittoria. In Inghilterra il Crystal Palace è fermo a zero punti con sei sconfitte in sei partite, ma ha battuto Ipswich Tovne e Ipswich in Coppa di Lega. In Spagna il deportivo Alaves, che ha da poco assunto Gianni De Biasi come allenatore, ha perso sei partite su sei ma ha numeri leggermente più incoraggianti di quelli del Benevento. Il Benevento, oltre ad aver sempre perso in Serie A, ad agosto è stato eliminato dalla Coppa Italia dopo aver perso in casa per quattro contro il Perugia, che gioca in Serie B. Per trovare una vittoria del Benevento bisogna tornare indietro all'amichevole giocata contro la vastese i primi di agosto. E a tutto questo si aggiunge, come se non bastasse, la recente positività agli anabolizzanti riscontrata nei test antidoping eseguiti dal capitano della squadra, Fabio Lucioni, che nelle prime cinque partite di campionato, era sempre stato titolare in difesa. Lucioni è stato sospeso per precauzioni in attesa degli accertamenti, e potrebbe incorrere in una squalifica.